buonasera a tutti bentornati alle live di gare bodybuilding abbiamo fatto un attimino di pausa la settimana scorsa il ponte del primo maggio abbiamo iniziato a seguire le prime gare di wabba e vi dicendo ma ci siamo abbiamo questa sera un altro super ospite che ha una storia importante che è fabio grazie e come solito abbiamo la nostra colonna portante live questa valletta io mi aspetto una sera di questa e fai le veline e esco io così da un lato pronto operativo non ti vedo proprio bene come velina diciamo che c'è di meglio in giro c'è anche di peggio non mi sputerei sopra ecco parte la divagazione così a chiacchiere volevo ricordare a tutti che live sono presenti anche su spotify proprio per darvi modo di ascoltarlo mentre siete in giro mentre state facendo cardio mentre fate una passeggiata prima cosa profitto per fare un promemoria di iscrivervi anche alla newsletter perché nella newsletter comunichiamo mensilmente tutti gli appuntamenti mettiamo dentro il reportage tante informazioni per tenervi sempre aggiornati su tutti quelli che sono gli avvenimenti di mese in mese comincio già a dirlo perché qualcuno mi ha già chiesto vi aspetto tutti al rimini wellness perché saremo giù come gare modi building tutti e quattro i giorni e quindi avremo modo di incrociarci di vederci io approfitterò per farvi foto video chiacchiere detto questo lascio la parola matteo e ci vediamo più già si rideva si scherzava prima perché stasera sono felicissimo c'è un amico di vecchia data fabbione innanzitutto come stai io bene tu matteo benissimo c'è soltanto l'aggravante delle 21 perché dopo bene o male dopo mezzogiorno luna già comincia la fase di declino per me però adesso ci riprendiamo non parliamo ricorda in casa dell'impiccato voglio dire esattamente allora fabio eccomi parliamo di un atleta con tanti anni di agonismo ma non solo i successi alle spalle hai vissuto l'ultimo decennio di bodybuilding e assieme a te questa sera rivivremo un po quelli che sono stati i cambiamenti nella nostra disciplina da anni a questa parte però prima di cominciare ad affrontare nello specifico dato che comunque con gare bodybuilding ci occupiamo di questo parliamo proprio dell'ambito competitivo vorrei che ti presentassi sempre in relazione al culturismo quindi come è cominciato con l'allenamento e poi come è cominciato con l'agonismo allora chiamo fabio appunto ho quasi 50 anni a ottobre allora io vengo da altri sport ho sempre fatto molti sport in passato calcio ciclismo podismo nuoto arti marziali avevo già affrontato la palestra da ragazzo diciamo soprattutto in visione di potenziamento per le arti marziali poi ho ripreso fare palestra nel 2006 quando ho smesso di giocare a calcio e per tutta una serie di motivi poi avevo perso molto peso me l'ho ritrovato secco secchissimo anche adesso sia particolarmente voluminoso però insomma mi sono detto è il caso che metti su un pochettino di carne e possibilmente non solamente ciccia e mi sono iscritto in palestra da lì poi come tutte le cose io cerco di affrontarle in maniera piuttosto pignola e quindi ho cominciato a interessarmi sempre di più all'allenamento iniettazione come mettere massa e un pochettino da volta diciamo che ho ottenuto un po i risultati poi sfociati nell'agonismo nel 2013 a novembre 2013 ho fatto la mia prima gara tutto è cominciato per me grazie a quello che un tempo era piuttosto in voga che erano i forum non c'erano i social o se c'erano erano veramente qualcosa di molto molto riduttivo c'erano invece i forum che erano degli spazi su internet dove ci si poteva scambiare diverse informazioni in maniera meno veloce rispetto ai social attuali però comunque abbastanza efficace lì tra l'altro conosciuto anche matteo come tanti altri che che ora gareggia la morgente l'osca che bazzicava in questi siti che come detto forse era anche il bello cioè quella comunicazione latente non mandavi un messaggio e ricevevi nell'immediato una risposta quel messaggio rimaneva lì non arrivava nessuna notifica dall'altra parte quando si riaccedeva rigorosamente dal browser al forum si ricommentava e magari una discussione che ora si fa in qualche minuto lì durava giorni però ti dava anche la possibilità di rielaborare alcune nozioni pensarci su insomma è il confronto tra il fast food e lo slow food ora fortemente rivalutato chissà dubito che succederà anche per quanto riguarda l'ambito mediatico però era veramente bello quindi vari modi web così via esatto body web che è stato io l'ho anche ringraziato con un video dopo la mia prima gara perché temo praticamente quasi tutto quello che so a body web non tanto perché apprendessi da quello che c'era scritto ma semplicemente perché ho ricevuto tantissimi spunti per poi andare io esternamente a raccogliere più informazioni approfondire e studiare no po perché sono passati tantissimi atleti fortissimi e preparatori e attuali da lì appunto poi sono stati gli amici di body web che mi hanno spinto a gareggiare perché mi dicevano vada che stai benissimo potreste andare in gara e non mi vedevo perché premetto che io sono anche un coach e un personal trainer ma non ho mai avuto un coach ho sempre fatto tutto da solo e anche all'inizio e la mia visione delle azioni e delle gare era un qualcosa di assolutamente soggettivo quindi non avevo grossi parametri di riferimento e infatti mi ricordo che sono andato alla mia prima gara con un cutting estremissimo perché io pretendevo di vedere nello specchio del mio bagno detto tra pare il bastardo perché non ti fa vedere bene mai ok pretendevo di vedere nel nello specchio del bagno con la luce schifosa io bianco latte come sono quei particolari che vedevo invece nei nei ragazzi in gara sul palco con il colore con le luci col pump quindi capisci bene che io praticamente sono trovato a tagliare finché di me era rimasto su pelle ossa e qualche muscolo diciamo infatti quello è stato uno degli errori più gravi della mia vita anche se erano che se poi la gara assolutamente molto bene però diciamo che è stato qualcosa di estremo quindi ovviamente poi la difficoltà con la quale ci si confrontava con gli altri all'epoca per oltre alle foto postate sui vari forum poi legare bisognava andare a vedere anche è assurdo fabio se ci pensi perché non stiamo parlando di un'era geologica fa in dieci anni è cambiato tutto è cambiato tantissimo anche reperire qualche firmato su youtube non dava la minima idea di come era la resa in gara perché al massimo arrivava a 360p cioè non si capiva una mazza e quindi o legare tre vedevi oppure come dicevi tu suppone quella che sarebbe dovuta essere poi la forma finale cultura fisica quando lo prendevi chiaramente spulciati con la lente di ingrandimento sembrava di avere in mano la bibbia perché dici si chi ha vinto vedo vedo c'è delle foto vera e vedo capisco cosa è effettivamente una gara di body business e quindi si è pronto come dicevo i punti di riferimento non ho veramente veramente per dirti io il posing a me il posing l'hanno insegnato sul forum mi ricordo perfettamente chi mi ha spiegato come fare la lat spread frontale che probabilmente è la mia cosa migliore adesso ma non mi usciva per niente e me l'hanno spiegata attraverso un forum quindi non in cinque minuti ma probabilmente sarà durato tre giorni quattro giorni con la discussione di ok quindi non fai così devi sentire qua devi antepore il gomito eccetera eccetera quindi per dirti com'è cominciato in maniera veramente da artigianale per cui mettendo insieme pezzo su pezzo singolo pezzo e appunto sordito poi nel 2013 a fine 2013 poi da lì ho conteggiato giusto oggi perché sapendo l'argomento detto che faccia un attimino mette locale e ho fatto escludendo gli assoluti 49 gare in 11 anni praticamente per cui solo una media abbastanza sostenuta diciamo che ti è piaciuto da un'esperienza così alla fine pochettino solo credo che si veda sono un ragazzo faccio un po fatica a dire ragazzo però sono una persona piuttosto timida e quindi mai mi sarei aspettato di essere a mio agio sul palco con un costume strimentato ok di fronte a tante persone eppure io da quando ho messo il piede sul palco neanche di fronte proprio appena sono salito io mi sono sentito a casa come in poche volte nella mia vita infatti tuttora sul palco per me come casa mia cioè io non ho nessun tipo di tensione mi emoziono raramente sul palco o credo di avere un buon autocontrollo tant'è che una volta due anni fa ho avuto anche un piccolo malore sul palco e non l'ho dato a vedere e ho anche vinto la gara una reazione del nervo vago per cui ho cominciato a non stare più in piedi sostanzialmente e sono riuscito a posare lo stesso perché con l'autocontrollo ok quindi se uno va in panico in quel momento e lì sono riuscito a controllarmi ed è una cosa che mi è sempre successa comunque e mi succede ogni volta se tu mi dici adesso vai sul palco io così come sono prendo vado su anche se c'è davanti una marea di gente non ho nessun tipo di progetto non so perché questa cosa le godo diciamo così me la faccio me la faccio andare più che bene diciamo che fa parte un po del tuo percorso ormai dove il palco non è stato quell'amore fugace no quella scintilla ma è entrata a far parte proprio della tua vita non è quel forse anche dal contesto dal quale è nato non è quel bodybuilding del dimostrare del far vedere ma ha vissuto con l'introspezione proprio come parte della tua routine che ti sei costruito nel corso degli anni e quella ciliegina sulla torta ormai di ciliegine le messe tante e che contribuisce poi a permetterti di vivere pienamente l'esperienza magari scremata come detto anche tu di quelle emozioni forti da un senso o dall'altro però in un certo senso fa parte fa parte proprio di te perché poi da quando è cominciato tuttora salire sul parco chiede una certa preparazione e quindi non è soltanto il momento nel quale metti piede sulla pedana ma tutto ciò che comporta e quello fa parte non è la parte terminale ma è un'inter in flusso e sarebbe credo molto difficile di vivere senza non dico senza palco ma senza bodybuilding in generale vabbio raccontaci però un attimino della tua prima competizione perché in un periodo del genere era era abbastanza difficile fare selezione scegliere quant'altro io la prima mia prima gara è stata anche la prima gara che ho visto la prima gara a cui ho assistito e partecipato proprio perché a parte che ero un ragazzino ma era difficile poi raggiungere il luogo della gara che sono stato a ciampino era un'oretta di macchina ma più lontano per me era impensabile come hai scelto la federazione la categoria raccontaci la mia decisione anche di gareggiare è dovuta al fatto che negli ultimi quattro anni precedenti cioè dal 2009 sostanzialmente io mi allenavo in garage e quando dico allenarsi in garage non intendo con le attrezzature che ci possano essere adesso ma mi allenavo in garage non la faccio vedere con che cosa perché sono presa in giro però mi allenavo in garage veramente con qualcosa di molto essenziale per delle scelte familiari diciamo così per organizzative e non solo e quindi mi mancava proprio il confronto con altri appassionati che avevo attraverso il forum come dicevo però mi mancava proprio la trovarmi con delle persone che avevano la mia stessa passione perché magari invece poteva essere per chi frequentavano la palestra e quindi nasceva proprio da questa esigenza e la scelta allora la mia prima gara intanto è stata al primo tbs the best natural in show della yen bb a padua la scelta è stata esclusivamente come dicevi tu per una questione logistica io sono di vicenza dalla provincia di vicenza la gara si faceva padre onestamente se una qualsiasi altra federazione avesse fatto una gara a padua verona o a vicenza o treviso ecco io sarei dato poi fatalità io mi sono trovato a calcare lo stesso palco di campioni che mai avrei immaginato di non pensavo di poter saggire sul palco con con gente di di quel cane perché allora rimu ripeto come per come nel tuo caso la prima gara che ho fatto è stata la prima gara più assistito da di non sapevo assolutamente niente mi ave sono andato insieme ad un amico di bodyweb che ho visto per la prima volta lì dal vivo perché prima c'eravamo solamente funzionava così lui di torino e quindi non c'era mai stata occasione ho detto vado a fare questa gara e magari viene anche tu e sono andato anch'io lo è scritto e ho bereggiato il ricordo benissimo allora la categoria mia era hp meno 3 ho scelto la categoria perché mi dicevano guarda sei troppatissimo e dovresti fare l'hp e lo dite voi la meno 3 perché rientravo in quel peso lì semplicemente qui proprio senza nessuna scelta a priori ci hanno fatto una preparazione per entrare in categoria io mi sono preparato ho cercato di arrivare al meglio possibile per quella gara e poi mi sono ritrovato a sul consiglio appunto di chi ne sapeva di più ha detto guarda dovresti fare questo io vado mi scrivo allora io avevo un atleta di riferimento allora del bodybuilding che c'era come riferimento perché tra virgolette simile a me body fisico eccetera che era stefano piccirillo ok il diablo niente me lo trovo alla gara e me lo trovo in categoria e me lo trovo di fianco non che fosse una novità diciamo che era presente su molti palchi con molta frequenza quindi era da aspettarselo io lo vedo nel retropalco ok viene mi guarda mi dicevo mi preparo chiamano il mio numero vado su ok mi metto in posizione dopo di me chiamano lui io mi giro e dico scusate oh cazzo è stato un esordio diciamo col botto poi la gara è andata bene ho vinto e mi sono trovato poi a fare l'assoluto mi ricordo in quella gara lì c'era sul palco con me a fare l'assoluto c'era Matteo Piavita c'era Vicentin c'era Moreno Pidini c'era Fabio Grossella e lo di non dimenticare nessuno c'è c'erano dei degli atleti straordinari anche me l'epoca parlando di natural world building c'erano moltissime scelte in termini federativi quindi tutti coloro che avevano scelto un determinato percorso come quello del natural world building convogliavano per forza di cose lì e era una erano botte da da orbi è stata un'esperienza fantastica io ho ancora il video della mia routine che guardo con tantissima vergogna però anche con tanta con tanta commozione per quel ragazzo che lo guardo e dico tesoro mio veramente non sapevi cioè mamma mia che tenerezza secondo me di bambini che si alzano e un cespicano poi cascano la ti vede con l'emozione ecco io mi guardo con questo tipo di sì poi ho imparato a camminare dal gattonare al correre esatto ora abbiamo parlato di questa prima esperienza che risale ormai a undici anni fa per quanto riguarda poi il tuo approccio anagonismo è cambiato tanto ora tralasciando l'allenamento in garage o l'allenamento in studio adesso perché sono cambiati i me la tua visione i tuoi metodi sono rimasti c'è un filo conduttore importante ti arricchisci di tanta esperienza diretta fatta da me e tanta esperienza in diretta fatta dagli atleti che che seguo ti arricchisci delle conoscenze che nel frattempo acquisisci però diciamo che quello che rimane abbastanza comune con il fabio di undici anni fa o prima perché poi la gara ho vincito a parlare molto prima probabilmente certo quell'atteggiamento abbastanza la isfa dire ok io le cose le faccio al 110 per cento però non mi prendo neanche troppo sul serio il lavoro lo faccio bene come quando si va in gara io dico sempre a tutti i ragazzi miei io sul palco per arrivare secondo non sono mai andato che sul palco si va sempre per vincere poi però bisogna essere cosciente di quelli che sono i propri mezzi per cui la preparazione alla gara si fa bene però ricordiamoci che è una gara di bodybuilding che non siamo i professionisti al di là del fatto che hai la tessera però o meno non siamo i professionisti che vanno all'olimpia che non vuol dire affrontare le cose sotto gamba o dire vabbè se va bene no le cose si fanno bene però ricordati che è una scelta tua che deve essere un piacere tuo assolutamente anche la sofferenza e che c'è che personalmente è una dolce compagna è una cosa che hai scelto tu per cui cerca di vivertela bene anche perché la gara dura cinque minuti dieci minuti mezz'ora quello che può durare ok la preparazione dura lo so quanto mesi mesi e e quindi non ha assolutamente senso vivere male tutto quello che c'è prima per finalizzato a quel momento lì e quindi deve esserci un equilibrio fra quello che richiede a te stesso e quello che vuoi quindi se sei disposto a soffrire tanto benissimo si soffre tanto e anche io vado avanti così se non sono disposto a soffrire tanto come si dice gliel'ammollo cioè questo cosa a livello di allenamento cosa vuol dire bisogna comunque andare a allenarsi in un certo modo però con un sorriso ok se non durante o prima o dopo cioè essere comunque felici di quello che si sta facendo questa è una cosa fondamentale altrimenti l'allenamento successivo non affronti con lo stesso spirito non hai quella voglia di provare a batterti di provare a reggere a migliorarti e questo è il filo conduttore poi tutto il resto a livello di cose molto più tecniche anche perché ormai ripeto le esperienze e le conoscenze cui che abbiamo adesso non sono contrariamente quello che sento dire molto spesso anche da me coetanei non è vero che si stava meglio quando si stava peggio cioè quando si stava peggio si stava peggio per cui io solo sa le cazzate che abbiamo fatto ok le sa solo dio perché non c'erano i social e quindi non le potevamo come dire mostrare le sapevano solo i nostri familiari i nostri amici e i quattro grossi della palestra che con cui ti confrontavi eventualmente però si facevano di quelle cazzate adesso è lì non più consapevole diciamo anche perché come giustamente detto si stava meglio quando si stava peggio frutto di è tanta malinconia magari del periodo che fu che uno ricorda in maniera più spensierata e quindi associa anche beatamente quelle quelle circostanze quei momenti a degli ambiti tecnici in realtà non è propriamente così perché all'epoca fabio io facevo determinate cose non perché volevo fare quelle determinate cose pensavo nel mentre a che bello un giorno le ricorderò con piacere perché conoscevo solo quelle non è mancava la possibilità di scegliere poi quando c'è consapevolezza si fa una scelta quando la consapevolezza non c'è non si fa una scelta e quindi è difficile rimpiangere qualcosa che ti ha accompagnato per un certo periodo e che tu hai fatto non per scelta ma perché semplicemente quello che facevano tutti erano era l'unica cosa da fare quindi uno la ricorda con malinconia e si stava meglio quando si stava peggio si può dire ma con un contesto di gran lunga più ampio diciamo stavo meglio 15 anni fa senza casini per la testa e quello è un altro punto e c'è anche da dire un'altra cosa che poi era una delle domande che volevo farti cioè come come vivi nel tempo negli anni la tua passione come mantieni la motivazione come riesce anche a mantenere questa frequenza in ambito agonistico tenendo conto che la preparazione è come detto è impegnativa per alcuni più per alcuni meno poi c'è anche il fattore abitudine però l'impegno c'è sempre e comunque c'è come hai detto tu la possibilità di abbracciare quella stanchezza quell'impegno e farselo farselo compagno farsela compagna ma probabilmente tutto deriva anche dal fatto che oggigiorno il bodybuilding anche è tanto dimostrare agli altri cioè tanto far vedere tanto spiattellare determinati risultati quando all'epoca al massimo o si condividevano con le persone che erano lì sul luogo della gara o poi con calma con tutta la calma del mondo non si facevano stories ma si tornava a casa e si scriveva il report sul forum si chiacchierava e si scambiava qualcosa c'è questa visione molto copria del percorso del bodybuilding dell'agonismo condivisa fino a un certo punto cioè vissuta come qualcosa di caro come questo è mio è un qualcosa che mi voglio tenere protetto è un qualcosa che voglio tenermi caro poi per carità la condivisione tanta roba però c'è di più dietro una foto dietro un video credi che abbia influito positivamente il momento in cui hai cominciato a competere parto dal fatto che come dico spesso il bodybuilding agonistico mi ha salvato la vita la frase sembra forte però mi ha dato un obiettivo in un momento in cui emotivamente ero un pochettino stanqua nel senso che c'è un'età in cui non hai più quel potenziale davanti e ti senti a volte un pochettino bloccato io vivevo più o meno quel momento intorno ai 37 38 anni poi 39 e il fatto di pensare di gareggiare e di inventarmi una nuova vita nel bodybuilding mi ha dato uno slancio che mi ha servito tantissimo per uscire da determinati fattori lo dico pubblicamente minuti lo sarò già io ho sofferto di attacchi d'ansia soffrivo di attacchi d'ansia precedentemente è proprio perché è probabilmente c'era questa situazione in cui ti sentivi un pochettino ingabbiato no quando sei giovane comunque qualunque cosa tu ti puoi dire ma tanto ho tempo per rifarmi per raggiungere determinati obiettivi eccetera ad una certa da comincia a dire tempo non ne ho più e quindi ecco probabilmente e io mi ricordo che per uscire dal tagli dei momenti di non proprio degli attacchi d'ansia perché quando arrivano quelli c'è poco da fare quelli diri proprio in uscire dei momenti pochettino più difficili io mi concentravo sull'allenamento che dovevo fare ma in maniera maniacale cioè mi vedevo scendere in garage prendere e preparare l'attrezzatura appoggiare il bilanciere infilare il disco da 15 kg infilare c'è proprio una cosa molto molto e siccome io entravo in un mondo che era mio e che io controllavo perfettamente qui al mio agio mi placao questo è stato il primo aiuto secondo aiuto appunto quello di darmi un obiettivo e dire ok da qua a di più quando poi ho deciso insomma 8 mesi io ho quell'obiettivo lì e quindi devo fare da qui da qui da qui a qui mi sono dato delle scadenze e questo mi ha aiutato a tirarmi avanti poi sicuramente ho preso gusto non nego anche che siccome nella mia carriera ho gareggiato molto e ho vinto molto ho comunque fatto tanti poti se non ricordo male o su 49 gare ne ho vinte 22 devo aver fatto una dozzina di secondi posti e sette otto terzi posti e quindi 5 6 fuori dal o forse 6 7 fuori dal dal bodio non lo dico per per piaccioneria lo dico perché mi ero messo in testa di voler essere un atleta di livello top del natural bodybuilding salvo poi quindi non solo un altro bodybuilding e anche di andare a gareggiare fuori ok dal circuito natural proprio per sfidarmi per vedere quanto ero forte ho preso due belli sberloni belli forti e lì è stato esattamente allora esattamente sono andato a fare il ludus dell'isbb quando era ancora unica ci siamo beccati pure lì 2015 lì al di là del risultato non buono e anche della forma forse una delle mie peggiori forme di sempre anche perché ho gareggiato alla mezzanotte e mezza dalla mattina alle otto come se alle nove ero pronto per andare a dormire a mezzanotte e mezza ero pronto per svegliarmi sostanzialmente ma comunque no a parte quello lì mi sono reso conto mi sono fatto un grosso esame di coscienza su quello che sono sono io come fisico come possibilità rispetto a quello che è il bodybuilding quella b maiuscola e quindi lì ho preso veramente per la prima volta coscienza di me e ho detto fabio tu sei un buon un ottimo hp in ambito natural sei un buon bodybuilder ok come categoria sto e da lì ho avuto un annetto in cui mi sono appunto questo ragionamento l'ho fatto nell'arco di una notte ci ho voluto diverso tempo però da lì ho preso molta coscienza di me quindi da allora è cambiato ulteriormente il mio modo di approcciare le gare appunto perché io vado faccio il meglio quando vado sul palco non regalo niente a nessuno però ragazzi cioè io vado per divertirmi assolutamente vado per divertirmi le scelte che faccio a livello di gare a cui partecipare sono dovute non tanto a calcoli di ok vado lì faccio questo tipo di percorso perché faccio questa gara poi posso fare quest'altra eccetera come invece poteva essere prima sinceramente vado perché voglia di farla e tutto e basta senza nessun problema solo alla prima gara che ho fatto dopo l'utus l'utus l'ho fatto al 13 dicembre giorni santa lucia del 2015 13 perché la gara era il 12 però io ho gareggiato il 13 avevo promesso a mia moglie che non avrei gareggiato per tutto il 2016 poi segretamente ho cominciato a prepararmi e sono andato a gareggiare a dicembre mi sembra il 5 primi di dicembre a bologna a un tbs mia moglie che mi ha detto ma scusami mi avevi detto che non gareggiavo ma si dai dicembre gennaio siamo lì stai guardare il mese però era una gara molto importante per me perché ho detto io vado o vinco quindi anche l'assoluto e la pro card che tempi aveva un altro cicato o mi ritiro punto ma ma non perché o mi danno ragione oppure li mando tutti a quel paese semplicemente devo capire che hai Fabio o fai le cose per bene e sei uno forte oppure onestamente non sei in grado di preggere le gare fatte in maniera diversa e fortunatamente quella volta è data bene infatti è l'unica volta che ho pianto su un palco per una gara io piango costantemente quando vedo i miei atleti sul palco perché sono una bamboluccia e quindi mi emoziona ma per le gare mie io non ho versato una lacrima tranne quella volta quella volta proprio sì perché mi è venuto addosso un anno di emozioni in cui è anche un rapporto con il bodybuilding agonistico che temevo di dover interrompere comunque da allora diciamo che per me gareggiare è diventato solo gareggiare per il questo di fare da gara quanto è complicato gareggiare nel senso molti soprattutto giovani che queste dirette vengono viste anche da tante persone che vogliono approcciarsi all'agonismo perché lo vedono con un punto d'arrivo anche se abbiamo detto in realtà che punto d'arrivo decisamente no non lo è però al di là di quelle che sono le foto e video che vedono di questi atleti sorridenti e sfavillanti letteralmente tra affaretti olio e quant'altro quanto è impegnativo riuscire a coniugare lavoro la famiglia con una preparazione perché il bodybuilding non è solo per chi non c'è niente da fare come leggo spesso a volte neanche si sceglie di fare bodybuilding e bodybuilding che sceglie no non se ne può fare a me una serie di motivi che tanto è inutile spiegare a chi non c'è dentro ma quanto è impegnativo riuscire a combinare la famiglia con il lavoro con la preparazione e che consigli ti senti di dare a quelle persone che vogliono farlo però si sentono frenate da tanti aspetti perché comunque è bello viverselo però è altrettanto importante non pesare su chi non fa questo non lo comprende magari appoggia pienamente però dell'appoggio non bisogna puoi mai abusare è impegnativo preparare le gare è sicuramente impegnativo se si affrontano con la giusta mentalità si può riuscire a fare coniugare qual è la giusta mentalità preparazione non si improvvisa qui tu hai un programma di lavoro di allenamento un'alimentazione da seguire uno stile di vita da seguire il più possibile innanzitutto essere onesti con se stesse dire ok ho voglia di farlo e posso farlo sì benissimo se quello rimani concentrato su quello che non ti occupa tutta la giornata bisogna imparare a organizzarsi porto l'esempio di un ragazzo che ho portato in gara l'anno scorso la sua prima gara questo ragazzo fa un lavoro particolare per cui ha 22 23 trasferte l'anno in giro per il mondo perché lavora nelle moto gp ok e ha preparato una gara o fa a una famiglia due bambini piccoli e quando è a casa non è a casa ma lavora in sede centrale pure è riuscito a preparare con assoluta tranquillità perché lui aveva l'alimentazione da seguire l'allenamento studiato nel momento in cui non andava a interferire con la famiglia con il lavoro quindi si alzava molto presto si allenava una mattina presto come notare che poi era presente con i figli per portarli a scuola o andare a casa e poi andava al lavoro quindi con il minimo di organizzazione è riuscito a preparare la gara in maniera assolutamente tranquilla e ci tengo a portarlo come esempio perché l'anno scorso ha esordito il campionato italiano e l'MB che prevedeva il giorno precedente alle assoluti italiani una tappa di selezioni ma siccome quel weekend lì fatalità era un weekend in cui non c'erano le gare abbiamo scelto di fare la selezione il giorno prima e l'italiano il giorno dopo lui è venuto a rimini con tutta la famiglia lui la mattina ha fatto la gara il pomeriggio ha portato i bambini al mare la mattina successiva è venuto a fare gli italiani il pomeriggio ha portato i bambini al mare vi posso assicurare che la forma portata era la migliore possibile per le sue caratteristiche in tutto quanto è nato anche abbastanza bene un quarto posto per cui voglio dire assolutamente però voglio dire si può affrontare così e l'hanno ha preso sotto gamba un millimetro l'hanno ha preso sotto gamba un minuto ti può fare non bisogna caricare la preparazione di troppe aspettative cioè la preparazione per una gara non è prepararsi per andare in guerra lasciamo stare le parole guerra battaglia che in questo periodo hanno un altro significato che noi neanche possiamo immaginare ok la preparazione per una gara è cina è rispettiosa cosa qualche volta ti fa uscire qualche parola parolaccia diciamo così o che ti fa imprecare un pochettino parola preparazione per una ribaldivine quindi affrontata col giusto piglio con l'assoluta serietà ma quello se vuoi bene nato un'ora e mezza al giorno è un'ora e mezza dai 24 ore organizzarsi poi i ragazzi che cominciano a gareggiare adesso hanno una grandissima che hanno una valanga di gare tra cui scegliere cosa che per esempio tornando a dieci anni fa o anche più era così a volte le gare a cui partecipare hanno poche perlomeno nel centro centro nord italia centro sud ci sono sempre state diverse gare perché c'è un altro tipo di cultura quanto riguarda l'agonismo e body building al nord italia segui di gareggiare ragazzi vedi due selezioni e un italiano adesso puoi scegliere da marzo fino a novembre oltre alza proprio anche a luglio ci sono gare ad agosto ci sono gare andate sul sito di gare bodybuilding e vedete l'elenco ci sono le gare ci sono le gare vi posso assicurare che una volta si gareggiava ad aprile maggio giugno poi si andava a settembre ottobre novembre forse adesso ce n'è una settimana è vero letteralmente letteralmente fabio io ti faccio un'ultima domanda e poi le tre di rito che facciamo ogni ospite questa è una domanda che mi arriva spessissimo e mi arriva da ragazzi non più giovanissimi spesso mi chiedono se è troppo tardi per iniziare ragazzi di 26 28 30 anni che chiedono è tardi per partire per favore rispondi tu bene se vuoi fare l'under 25 tardi ok perfetto esatto tutto adesso è assolutamente fattibile è ovvio che sembra quasi che se non si comincia a 18 anni ci si perda un pezzo cioè quella componente iniziale poi non è non c'è non è più ricollocabile alla fine non è propriamente così non a caso ci sono tante persone che si allenano tra virgolette da una vita e non hanno mai tirato fuori un ragno dal buco per il semplice fatto che non è quando cominci non è da quanto ti alleni ma come decidi di affrontare un determinato percorso inviterei tra l'altro tutti coloro che ci seguono che guarderanno queste dirette di andarle a vedere le competizioni e andarlo a vedere il buon fabbio in gara vi accorgerete che chi rende di più su un palco non è più giovanissimo quindi si matura nel tempo è una disciplina che premia il costante e anche se non si comincia a 18 anni i risultati che si hanno sono assolutamente notevoli con un'unica però mi sento di dire una cosa perché spesso chi fa questa domanda non so cosa misca precisamente diventare il campione del mondo o cosa dice però mi sono perso questi anni di allenamento non ci arriverò più divetervelo il bodybuilding peraltro perché fabbio di gare se ne è fatte tante e le ha pagate tutte alla fine non vi arriva un riconoscimento se non quello il vostro tendenzialmente perché se volete dimostrare qualcosa a qualcuno state tranquilli pur vincendo il campionato del mondo le persone troveranno altro di cui parlare e questa è una è una scelta di una cosa e sui ragazzi miei che mi sentono diranno ecco che l'ha detta anche sto giro perché la di continuazione allora e la dico sulla luce di quello che ho detto prima nel senso che c'è intanto che vinco la posso dire perché ha un senso quando comincio a non vincere più potrà assomigliare alla volte che dice che l'uva non è sul palco si va per vincere sempre altrimenti non si fa agonismo sul palco o qualsiasi competizione si va per vincere però fidatevi che delle vittorie poi non se ne ricorda più nessuno nessuno io il buon matteo che ha anche uno molto attento e sicuramente è un ragazzo che segue molto le gare ovvi motivi ok io gli chiedo e non entra non ti farò la domanda però se ti chiedo che vinto la categoria tal detali lo scorso anno ok tu non lo sai a meno che non sia un ragazzo tuo chi ecco chi se lo ricorda magari o chi l'ha accompagnato o chi ha vinto quindi bravissimo ok quindi quello che si se quello che voi cercate con il bodybuilding agonistico è il riconoscimento e non ve ne faccio la polpa perché siamo tutti comunque degli idonisti egocentrici se non andremo sul palco con un costumino tutti colorati ok quindi non è un problema se quello che ricercate è una forma di riconoscimento da parte degli altri ricordatevi che di voi se ci si ricorda se siete un bell'attrice avete un certo stile sul balco se migliorate di anno in anno questo ci si ricorda di voi non di quello che avete lì anche perché qua la frase non è mia io la so da annunciano rossi probabilmente la fase è ancora precedente ricordatevi che quando vincete una gara è semplicemente perché chi è più forte quel giorno lì non ha gareggiato anzi e nel 2024 possiamo dire perché quel giorno lì probabilmente sta facendo una gara su un altro palco perché ogni settimana c'è uno per cui imparate a cercare di migliorare voi stessi ok e godetevi tutto poi se siete dei belli atleti la gente si ricorda di presente non sa io ho detto prima quello che ho vinto così ma la gente non lo sa se mi stima è come atleta ovviamente è perché magari vede in me un bell'atleta per quello che possa rappresentare io ok a prescindere dal fatto che vinco per questo mettetelo in testa quindi se cominciate a 25 26 parte il fatto che mortacci vostra voglio dire non preoccupatevi di aver perso chissà quale tempo è passato cominciate a godervi quello che è perché è inutile farsi 15 anni di rimorsi o di di malmostosità ok fate 15 anni invece fate bene goduti appino prendo come esempio matteo che ogni volta che va una gara io vi dico andate a vedere le gare e guardate il gruppo di ma cazzo vedete gente ragazzi che si divertono che si divertono perché quando andiamo alle gare noi andiamo per la nostra passione andiamo per divertirci ok quindi quel dati sorrisi quello è non lo sguardo poi va bene non siete contenti del risultato e va bene vi incazzate 5 minuti ma poi ve la fate non è quello quello è quello che rimane delle gare che il divertimento la gente che conoscete il riconoscimento che avete di voi stessi dire guarda però che cato tutto quanto però guarda che bel risultato che ho ottenuto no su di me quello quello che basta coppe medaglie cose del genere servono a prendere tanta polvere fabio a proposito di belli atleti c'è un atleta che più di ogni altro ti ha ispirato nel tuo percorso l'atleta uno strano un mister olimpia un atleta io non ho mai tiradosso qualche ira io non ho mai guardato con tanta ammirazione gli atleti del mister olimpia ok ma non perché faccio il natural schizzinoso ma semplicemente perché li vedevo talmente distanti da me che ciò che fare io ovvio che la figura di di arnold ma perché carismatica per mille altri motivi io sono del 74 quindi ho visto i primi commando i primi rambo o quindi anche silvestre sly e le vedevi i fisici andam ok quelli ti ispiravano però da un punto di vista strettamente tecnico un atleta che mi ha sempre fatto lasciare con la bocca aperta era galli alessandro galli perché è un atleta che proprio anche come linee come tutto mi ha sempre fatto tenuto per la bocca pressionante impressionante e più abbordabile come possibilità punto io guardavo stefano come stefano piccirillo come dire ok io provo a diventare come lui però mantenendo i capelli non me ne volere stefano te lo dico in maniera virtuosa se dovessi chiederti cercando di riassumere il più possibile per poi argomentare ma tutti questi anni cosa ti ha insegnato il bodybuilding l'umiltà imparare a riconoscere gli errori vabbè quello forse ci sono anche tante altre situazioni che te lo fanno riconoscere però il bodybuilding è una disciplina assolutamente bastarda per due motivi primo perché non è prestazionale io sono uno che se parliamo di prestazione di grinta ok quando giocavo a calcio io ero scarso con i piedi scarso però avevo quella fisicità e quella grinta no che ho gattuso e risponderci compensavano le bodybuilding non ce ne fai non te ne fai nulla a meno che non riesci a mettere quella aggressività quella in ogni singola in ogni singola ripetizione di ogni singola serie di tutti gli esercizi di tutti gli allenamenti che per carità c'è chi è che è capace e tanto di ok è una disciplina che non ti permette di correggere il tiro nell'ultimo settimana sicurati nell'ultimo giorno ok quindi se hai sbagliato qualcosa in solo cazzi di non puoi dare sempre una colpa a qualcos'altro cioè se tu sei quello e poi ha delle categorie non siamo entrati in argomento categorie ma il bodybuilding agonistico è fatto di categorie uno può essere un buonissimo a tenetta in quella categoria in un'altra categoria centrarci po quindi per dirti io nell'animo sarei un classic matteo mi capirà ma non sono classi tutto ok solo una hp posso essere un bodybuilder e un bodybuilding come categoria in ambito natural a questo sono classic no ok posso gareggiare fare bene se viene un classic vero mi asfalta che neanche 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 lo vedo passare ok e quindi questo ti trasmette l'umiltà c'è questo mi ha fatto capire che ho dei limiti ho imparato accettarli e prima poi ho vissuto bene tutte le gare e tutto quello che c'è prima delle gare la storia del se vuoi puoi fino a un certo punto alcune cose non dipendono da te è una bella storia un bel racconto una bella favoletta però credo che la realtà dei fatti e consista nell'accettazione nell'umiltà che non combacia con la sconfitta e la rassegnazione che sono tutta altra cosa diciamo che nell'ultimo periodo negli ultimi anni siamo pieni di campioni italiani ok perché ci sono tante categorie e tante federazioni però non vincono tutti ok certo per quello che vince c'è uno che arriva a secondo uno che arriva a terzo uno che arriva a quarto e quinto e ti servono quelli che arrivano a secondi terzi quarti e quinti perché sennò le gare non le fai devi accettarlo c'è chi le sconfitte le prende come un plus per dare ancora di più per fare un po di autoanalisi e c'è chi invece poi non si vede più ne certo non è quello il modo di prendere l'agonismo c'è sicuramente c'è c'è un brano che tra tutti ti ha accompagnato o in allenamento o nel backstage o salco di gara una routine un brano che per te è significativo allora in generale io adoro e credo di essere uno dei primi che ha utilizzato il ludovico in audi per fare una routine perché comunque anche è il tipo di musica che più spesso utilizzo in allenamento so che piuttosto diverso da quello che preferisci tu Matteo però è come dico sempre calma fuori il fuoco dentro però se c'è un brano che una routine non tanto per la routine di per se stessa bella o brutta che si ama perché ha un ricordo particolare per me è The Great Pretender che ho riproposto anche l'anno scorso semplicemente perché due cari amici che ho lasciato che ho lasciato negli ultimi anni e che mi hanno accompagnato dall'inizio del bodybuilding è l'ultima routine diciamo così che hanno visto mia e ho anche un ricordo filmato con la voce sotto che mi fa vabbè ho un ricordo mio a cui sono molto legato e quindi sicuramente sicuramente quella e anche e anche selli di basco perché anche lì ho una spezzone che mi sono salvato sul telefono per ogni tanto ascolto di di riccardo e che non sapeva che portavo che portavo selli e nella registrazione si sente un che per me significa un discorso intero per tanto alle che dici io dire che è stata una chiacchierata bellissima ed estremamente significativa ora la speranza è che certi messaggi passino vengano compresi e rimangano dentro spero di essere di essere stato utile a qualcuno soprattutto i giovani magari vedono un'esperienza appunto diversa viena dato che si può arrivare a 50 anni ok direi proprio di sì vista visto quello che hai portato sul palco di come hai portato avanti tutti questi anni la preparazione sicuramente qualche cosa rimarrà a chi ascolta bisogna vedere sempre chi ascolta che cosa vuole recepire ci sono degli aspetti che se vengono colti fanno la differenza sulla preparazione e sulla preparazione anche mentale di che si approccia al bodybuilding come a qualsiasi altro tipo di sport quello che stiamo cercando con con queste live con queste dirette con voi atleti dicendo come cerchiamo di trasmettere ecco la speranza sempre quella un po alla volta un po alla volta ce la faremo un po alla volta hai ragione un po lo sentono un po lo vivranno un po loro a volte serve solo tempo vorrei sottolineare una cosa detto prima detto anche in altri live l'importante è viverle queste cose non solo sentirle a voce da terzi se non gareggiate andate a vedere una gara se siete atleti vivete una gara e trovate riscontro su quello che vi viene detto a due personaggi come Matteo come Fabio come tanti altri che condividono le informazioni o gli stessi preparatori ma dovete vivere queste cose qui altrimenti rimangono solo parole al vento e quindi quella è la cosa importante secondo me se volete che le vostre gare venga tanta gente perché è bello avere tanti amici tanti che supportano te quell'altro per tanto quando si è sul palco senti senti l'incitazione di uno ma non anche magari per il tuo avversario però tutti i casi lo stesso bisogna che ci sia gente a legare ok quindi siate voi i primi ad andare alle gare a questo punto ringraziamo Fabio grazie a voi invece ci vediamo la prossima settimana con un altro un altro super ospite andate a vedervi sul sito a tutte le prossime aggiornamenti e niente grazie ancora grazie a voi buone gare a tutti un saluto buona serata a tutti ciao Matteo ciao Ale